La musica e il canto come strumenti di unione tra i popoli in uno straordinario incrocio culturale. E' questo il senso di Babbele Bab, il primo festival internazionale dei cori interculturali. In scena sabato 14 e domenica 15 ottobre, la Due Giorni si inserisce nel cartellone del progetto Napoli Città della Musica e vedrà 11 gruppi e 400 coristi portare in diversi luoghi della città la loro esperienza musicale. Ci hanno parlato del valore di questa iniziativa padre Eraldo Cacchione, coordinatore del coro Mille Colori di Scampia e suor Marisa Pitrella, direttrice della Caritas Diocesana di Napoli. Questa è un'esperienza che ha una rilevanza, come potete immaginare, di tutti i tipi, politica, musicale, etno-antropologica. Far scoprire agli altri che è possibile accogliere e non avere paura dei fratelli, credo che sia una cosa importante. Una sorta di festival che punta a proporre al pubblico una babele al contrario, che si rispecchia anche nel nome dell'evento stesso, in cui tutti, pur parlando lingue diverse, si capiscono e comunicano. Sembra quasi un esperimento sociale, ma di fatto la stessa musica popolare in Italia, oggi, non è figlia esclusivamente della sola tradizione orale locale, come sottolineato dal professor Alessandro Portelli. La musica popolare nelle nostre città non è più semplicemente la musica che abbiamo ereditato di tradizione orale locale, ma è anche la musica che viene portata da tutto il mondo. La musica popolare a Roma, io ci ho lavorato per molto tempo, su questo è curta, senegalese ed è romana. A sostenere fortemente l'iniziativa, l'amministrazione comunale di Napoli. Ecco i pareri del sindaco Gaetano Manfredi e del delegato per l'industria della musica e dell'audiovisivo, Ferdinando Tozzi. In questo momento in cui si ritorna in un mondo sempre più complicato ad affrontare le tante dinamiche dalle grandi temi delle migrazioni e i tanti conflitti che si stanno rianimando in tutte le parti del mondo, c'è questo messaggio di un paese capace di integrare, capace di avere un linguaggio comune che trova nella musica un grande fattore unificante. È un progetto veramente fondamentale per il percorso di Napoli-Città della Musica, perché? Perché rispecchia alcuni degli obiettivi principali, in particolare l'attenzione ai migranti, l'attenzione a una città policentrica, l'attenzione all'inclusione.